La due giorni di Roseto Capuspudico, dedicata all'agricoltura ed organizzata alla CIA e dal GAL Alto Ionio, è stata un'importante occasione di incontro per gli operatori del settore, per gli imprenditori del comparto agricolo ed agroalimentare e per le istituzioni del territorio. Tanti gli argomenti di discussione, dal nuovo PSR alla vendita diretta dei prodotti, dall'EDECO alla promozione dei prodotti e del territorio e diversi gli interventi che hanno arricchito i due incontri di contenuti. Bisogna sburocratizzare moltissimo, proprio affinché le risorse vengono date in tempi certi alle aziende e questo dal punto di vista della burocrazia, ma dal versante della politica, della rappresentanza, forse oggi è arrivato il momento di fare delle scelte, affinché queste risorse che ci arrivano dalla Comunità Europea di fondi strutturali, vengano spesi nella giusta direzione di creare veramente sviluppo. E non, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che non solo c'è l'obiettivo di spenderli tutti e spenderli rapidamente, ma di avere una qualità della spesa, una qualità della spesa che forse nelle passate programmazioni diciamo proprio per che si arriva alla fine della programmazione a spendere risorse e quindi non c'è l'attenzione ai progetti di qualità che invece con un piano che si accinge adesso a partire abbiamo un certo numero di anni davanti a noi e possiamo spenderli con qualità. Grazie a tutti.